bufera su francesco totti dopo l'intervista rilasciata al corriere della sera nella quale snocciola piccanti dettagli e retroscena della sua separazione da ilary blasi l'ex calciatore della roma assicurato di non essere stato il primo a tradire nel matrimonio durato 17 anni più tre di fidanzamento e di aver scoperto presunti messaggi compromettenti della conduttrice mediaset ad un misterioso amante il pupone ha inoltre accusato la madre dei suoi tre figli di aver rubato alcuni orologi della sua preziosa collezione affermazioni gravi e pesanti che hanno prontamente fatto il giro del web tanti tantissimi si sono schierati contro il mito giallorosso tra questi selvaggia lucarelli che ha scritto una dura filippica sui social network nei confronti di francesco totti a commentare pure gabriele muccino che ha raccontato la sua personale testimonianza il famoso regista ha spiegato di conoscere bene la tattica dell'avvocatessa dell'ex marito di ilary blasi ovvero anna maria bernardini de pace famosa matrimonialista nonché ex suocera di raul bova si è occupata di tanti divorzi vip come quelli tra albano e romina power e pippo baudo e katia ricera gabriele muccino ha rivelato illegale di totti io l'ho conosciuto bene l'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per cinque anni veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sana un divorzio cadenzato dai lazioni pericolose puntualmente riprese da chi un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate otto in tutto l'artista ha poi aggiunto tutte archiviate senza fatica erano fumo erano latrare di cani armi per spaventarmi erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci i figli traumatizza quello di gabriele muccino sembra quasi un avvertimento anche i tre figli di totti e ilary che francesco ha più volte rimarcato di voler proteggere corrono il rischio di avere ripercussioni importanti dovute alla separazione dei famosi genitori separazione che stando a quanto accaduto fino ad ora si preannuncia tutt'altro che pacifica e consensuale dopo le accuse di francesco lablasi è pronta a difendersi e a far valere le proprie ragioni la presentatrice dell'isola dei famosi ha lanciato un monito a repubblica tramite il suo legale alessandro simeone tra l'altro ex braccio destro di anna maria bernardini de pace chiarendo di aver scoperto segreti in grado di rovinare oltre 50 famiglie per il momento l'ex letterina di passaparola intende mantenere la strada del silenzio ma se continuerà ad essere provocata pubblicamente sarà pronta a raccontare tutta la sua verità in tv a verissimo dall'amica silvia tofanin grazie